and classic sostanzialmente tutti contro il computer intelligenza artificiale l'obiettivo è far fuori tutti i terroristi all'interno della struttura per farla breve niente male ma alla fine sono partito abbastanza rapide a differenza della versione multiplayer team damage perché la facilità qua è messa a livello normale anzi easy easy normale e hard questa è la prima versione la prima la prima difficoltà in assoluto quindi non è neanche così complicata però effettivamente presenta anch'essa i suoi bei canini forza andiamo su qua penso che sia quello che è svuotato sta fermo eccala là bastardi ste mine di prossimità sono una bastardata assurda è morto? è morto è morto è morto è morto yes finita la partita questa buona normale ecco la difficoltà è normale siamo arrivati anche primi ottimo retry retry si sono partite un pochino più rapide in effetti rispetto alla modalità multiplayer oh tra l'altro abbiamo 1172 punti spendibili al market e quindi probabilmente mi andrò a sbloccare in una delle classi via diretti tutto molto più veloce come potete vedere molto più rapido tra l'altro ho anche il netcode al momento si è comportato molto bene entriamo da sopra proprio non sono retribilato questo mi era scappato è dentro in due di qua buona se no per forza sta fermi così veloce questo molto rapido una partita molto rapida c'è niente in gamba dentro che buccio di curo vediamo dovrebbe dare anche più punti tra l'altro però sicuramente la difficoltà è maggiore il problema credo sia anche dovuto al fuoco amico tra le altre cose e qua il fuoco amico è presente quindi vai apc aria va bene sono l'unico sfigato e recluta non è una recluta sfigata per lo stronzetto eh per lo stronzetto va bene non c'è problema non vedo niente oh help help i need somebody help i need everybody help help good thank you fucking bag thank you very much Ecco qua le cose iniziano a farsi sicuramente più difficili che distruzione sto gioco bella storia è morto Ecco, mi inizia a essere della tosta qua a quanto pare Rifa, rifa, rifa Che sembra essere una bella modalità Yes Hard 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 Vai, vai, vai Marcheggio Pronti tutti Questa si chiama Twitch Un ninja Sembrava tantissimo un ninja Sarà fatto Io entro dalla finestra Grazie a tutti Grazie a tutti Buona, 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 buona. Al momento sembra molto, molto buona. Bastardo, cazzo si muovono pure? Picca troia. Picca la puttanella. Se sono cattivi nella modalità hard. Picca la puttanella. Prendete il lato! A presto! Come here! Bastardo maledetto Quattro di energia, vabbè a parte che ne manca solo uno Però in ogni caso Questi salgono quindi Sì cazzo Sì cazzo Eh? Vabbè Vabbè Gut